Pensavo che fosse un campionato un pochino più sereno, però ormai è inutile pensare quello che non è. È così, è una partita importante. È chiaro che se noi domenica dovessimo vincere il campionato sarebbe più tranquillo, più rilassante. Però sappiamo di avere una partita molto difficile. L'allenatore sta lavorando, sta preparando al meglio la gara e sa di avere delle responsabilità, come lo sanno i giocatori e come lo so io nei confronti dei miei tifosi, che si aspettavano di più da quest'anno, come ci aspettavano tutti, però il campionato è questo. Sono abituato a assumermi le mie responsabilità e dico che siamo in discussione tutti, da me sino all'allenatore, giocatore e dirigenti. Però secondo me è stato magari un pochino sottovalutato questo campionato, forse ci credevamo un po' troppo già tranquilli, perché l'anno scorso siamo arrivati ottavi e quest'anno magari pensavamo ancora di affrontare questo campionato con questa classifica, mentre invece si riparte tutti gli anni da zero e le squadre come il Parma devono sapere che devono lottare per primo per raggiungere i 40 punti. E poi qualche viene è tutto in più. No, Dan Mauri, anzi, devo dire che sta facendo benissimo. Non mi aspettavo che fosse così in forma, perché sicuramente la Juve aveva avuto dei problemi, stava giocando poco, e invece è arrivato veramente in forma. Credo che la partita con la Fiorentina l'hanno visto tutti, ha fatto un gol, ma è andato vicino a altre due o tre segnature e col Milan sabato non è mai stato servito, perciò non è giudicabile.